Sono il project manager della candidatura UNESCO di Padova Uruspicta. È una candidatura seriale, come si chiama in termini tecnico. Cioè ci sono diverse location, con diversi cicli di affreschi, che però sono candidati tutti assieme. Qui siamo in una delle sedi, il Palazzo della Ragione, uno spazio straordinariamente grande e bello, che in origine era tutto affrescato da Giotto e dai componenti della sua scuola. Del Trecento in realtà rimane poco, qualcosa di quello che intravedete alle mie spalle, e il resto è andato perduto già nell'incendio del 1420 e poi successivamente. Però queste parti che sono rimaste autentiche e intatte fanno parte di questa candidatura.